Margherita Porete, lo specchio delle anime semplici. Qui seguono alcune considerazioni per quelli che sono nello stato di smarriti e domandano la strada per il paese della libertà. Capitolo 123 La prima considerazione è sugli Apostoli. Alcune considerazioni voglio fare per gli smarriti che domandano la strada per il paese della libertà. E queste considerazioni mi fecero molto bene al tempo in cui ero tra gli smarriti e vivevo di latte e pappa e facevo ancora sciocchezze. Queste considerazioni mi aiutavano a sopportare e a resistere quando ero fuori strada e dunque le facevo per trovare la strada. Infatti domandando si va molto lontano e domandando si trova la propria strada e la si trova quando la si è persa. Domandai prima di tutto al mio pensiero perché Gesù Cristo dicesse ai suoi Apostoli bisogna che io me ne vada e se non me ne vado non potete diceva ricevere veramente lo Spirito Santo. Ebbi dunque risposta dalla giustizia la quale mi disse che Gesù Cristo aveva detto loro questo perché lo amavano troppo teneramente secondo la natura umana e debolmente secondo la sua natura divina. E per questo egli disse bisogna che me ne vada. Questo era duro da sentire per loro e da tale durezza poterono rendersi conto del loro amore di come fosse naturale e non divino. Udire la verità in ciò contenuta non fu loro né duro né estraneo ma erano turbati nella conoscenza e ciò è ben giusto poiché erano ancora rozzi nell'amore ma non di meno avevano ancora la dolce grazia di Dio. Infatti tale amore non separa dalla grazia di Dio anzi lo si ha per sua grazia ma impedisce i doni dello Spirito Santo che niente possono sopportare tranne l'amore divino puro capitolo 124. La seconda considerazione è sulla Maddalena. E poi considerai la dolce Maddalena e quale servizio fosse il suo quando Gesù Cristo giungeva come ospite come spesso era nella casa di Maria in grande familiarità con lui e con i suoi apostoli. Ma questo non le cambiava niente e infatti Maria non si muoveva qualunque lavoro ci fosse da fare. E anche se il nostro Signore Gesù Cristo spesso tornava proprio scalzo e affaticato nel suo capo benedetto ed era digiuno e stanco rifiutato da tutti poiché non trovava che gli desse da bere e da mangiare e anche se la Maddalena sapeva tutto questo tuttavia qualsiasi cosa mancasse al suo corpo non si muoveva e servirlo toccava a Marta sua sorella che di questo al compito. Ma amarlo non toccava che a lei. Considerai Maria anche quando andò a cercare Gesù Cristo nostro Signore al sepolcro e non lo trovò. Ma vi trovò due angeli che le parlarono offrendosi di riconfortarla. Ma Maria non accettava alcun conforto non più che se fosse l'ombra di due angeli ad offrirsi a lei. Maria cercava il vero sole che creò gli angeli e perciò non poteva ricevere conforto dagli angeli. O Dio Maria, quale fosti quando cercavi e amavi umanamente con l'affetto dato dalla tenerezza sopraffatta del tuo spirito. E quale fosti tu, amica, quando non cercasti più, ma fosti unita all'amore divino senza l'affetto del tuo spirito. Dopo di ciò considerai come Maria coltivò la terra del suo Signore che gliel'aveva affidata. Vi seminò infatti frumento non mischiato ad altro, e tale frumento s'unì alla sua fatica, ed il Maestro le fece poi ottenere frutto al cento per uno. Ma questo non avvenne prima che Maria non avesse fatto quello che poteva e doveva fare. E dopo che ebbe fatto quel che poteva e doveva verso Dio, che glielo chiedeva e che per questo l'aveva creata da sé per lei, Maria si riposò, senza fare opera propria alcuna. E Dio fece la sua gentilmente in Maria, per Maria senza Maria. infatti Maria aveva fatto la sua parte, e il resto non toccava a lei, bensì al Maestro, che le aveva dato da coltivare quella terra. Ora vi dirò come, per i bambini, per i saggi infatti non lo dico. Quando un uomo ha della terra, e da quella terra deve per necessità ricavare di che vivere, ara e concima e sarchia quella terra, nel modo in cui pensa e ritiene, che renderà meglio, perché porti frutto il frumento che vi si deve seminare, e di cui deve vivere chi ha lavorato la terra e vi mette il frumento. Queste due cose si devono fare per forza, prima di avere dalla propria terra il frutto per vivere. Ma quando il saggio lavoratore ha concimato e sarchiato la sua terra, e vi ha messo dentro il frumento, tutto il suo potere non può altro. Deve piuttosto lasciar fare tutto a Dio, se vuole avere il godimento del proprio lavoro, poiché da solo non può nient'altro. E questo lo potete vedere con la sapienza naturale. Bisogna dunque che il frumento marcisca nella terra, prima di poterne avere nuovo frutto, da cui il lavoratore possa avere soccorso, qualunque sia stata la sua fatica. Come questo grano marcisca e come rinasca, per portare frutto cento volte tanto, con grande moltiplicazione, nessuno sa tranne Dio, il quale da solo fa quest'opera. Dopo che il lavoratore ha fatto quanto sta in lui, e non prima. Lo stesso vi dico in verità di Maria. La terra che Maria lavorò è il suo corpo, che aveva afflitto nelle operazioni estreme e singolari degli ardenti desideri, che la facevano correre per la sua terra, lavorandola con le opere di pontà, con le quali coltivava la propria terra in tutto quanto sapeva che la sua terra poteva rendere meglio, per portare la vera semente della grazia di Dio. Infatti, un'opera buona da sola non genera certo le virtù, ma numerose opere le assicurano veramente, e la virtù rende le opere perfette. Per questo Maria dovette compiere numerose opere, prima che le virtù fossero in lei perfette. Ora avete udito come Maria lavorò coltivando la terra che Dio le aveva dato da coltivare. Vi dirò adesso del frumento non mischiato con altro che Maria seminò, lavorando il terreno. In realtà si trattò della pura intenzione che aveva rivolto a Dio. Infatti, sarebbe difficile che fosse cattiva e non desse alcun frutto l'opera la cui intenzione è veramente per amore di Dio, e tale intenzione ella aveva in tutto quanto faceva. Infatti, il suo affetto era sempre in Dio, per l'amore con cui coltivava e seminava la terra che egli le aveva dato da coltivare. Tale fatica le toccò fare a causa del peccato, e con questo mezzo furono spianate le grandi gobbe del suo terreno. Ora potreste domandare, come è possibile che vi sia nell'anima a causa della colpa un'opera di bontà fatta con retta intenzione? Non è certo per questa, né lo fu sempre, in tutti i luoghi in cui avvenne. Quando avvenne in Gesù Cristo, fu per la colpa del genere umano. Se avviene in noi, è per nostra colpa veramente. Anche se i ciechi chiamano vera perfezione questa vita, e se è chiamata così a causa di quelli che non vedono, e che veramente non potrebbero capire, ma quelli che di occhi ne hanno due, dicono che è a causa del peccato. Ed è senza dubbio così. Infatti, come si addice al bambino, avere in sé e fare cose da bambino prima d'essere uomo formato, così conviene che l'uomo faccia sciocchezze e pazzie nelle sue azioni umane, prima di arrivare al vero nocciolo dello stato di libertà, nel quale l'anima agisce con esercizio divino senza opera propria. E questo esercizio divino ci impedisce, ci protegge con sicurezza dall'agire in noi per colpa nostra, sia con opere buone, sia con opere cattive. Avete dunque udito dire che opera di bontà è a causa del peccato. E adesso voglio spiegarvi il perché. E' perché il meno sta al posto del più, e per colpa nostra il meno ha il suo stato riconosciuto. Il meno ci fa perdere il nobile stato divino, in quanto abbiamo in noi opere di bontà che sono il meno e non possiamo avere in noi il nobile stato divino. Esso non può infatti albergare insieme almeno, è troppo grande per avere con sé un ospite estraneo. Averlo dovette, Maria, per la colpa che avete udito. Ella ebbe così ardentemente in sé tale opera di bontà, e tanto se ne fece carico e impaccio, che tale impaccio la liberò veramente da sé stessa. Ora Maria ha arato e seminato la sua terra. L'aratura sono le forti opere di perfezione, e la semente è la pura intenzione. Queste due opere le dobbiamo per la nostra colpa. Ma più avanti il nostro arare non può andare, e per questo Dio deve fare il resto, e lo fa. E questo si vede chiaramente in Maria. Infatti Maria, dopo aver lavorato la sua terra, fu liberata da sé stessa, dopo aver fatto quanto stava in lei, e per questo Dio dovette fare il di più di lei, senza di lei, per lei, in lei, dato che lei aveva fatto quello che doveva. Maria lasciò del tutto che Dio decidesse per lei, dopo che ebbe fatto quanto stava in lei. Allo stesso modo dovremmo fare noi. Ma come il suo arare e la sua fatica ebbero profitto in lei per lei, e come fu la vita di Maria, avendo ella frutto cento volte tanto in grande moltiplicazione, nessuno lo sa tranne Dio, che da solo compie questa moltiplicazione. Quest'opera egli compì per Maria nel deserto, nel deserto di Maria, quando Maria si riposò da lui, e non quando Maria correva per conto proprio dietro a lui, ma quando la divina bontà si riposò in Maria, e quella bontà fece sì che Maria trovasse pace da lui senza Maria per Maria. Dunque Maria visse del nuovo frutto, che era venuto dall'opera di Dio soltanto, e la compì la fatica, e prese su di sé l'arare e il seminare, ma non il frutto. Quindi Maria compì il corso del suo essere, non quando parlò e cercò, ma quando tacque e sedette. Amén. Amén. Grazie a tutti